Nessuno lo sapeva, ma il cimitero monumentale di Bari è un autentico museo a cielo aperto. All'interno riposano defunti eccellenti. Questo garibaldino, ad esempio, partecipò alla spedizione dei Mille. Ma a stupire è l'intreccio architettonico di sculture e cappelle. Spiccano il romanico e il gotico, i diversi influssi orientali, fino a Liberti del Tardo Ottocento, monumenti di pregio culturale da valorizzare per fini turistici. Il comune se ne è accorto ed ha deciso di avviare la fruizione con la prima visita emozionale. Guide sottofondo musicale accompagnano il percorso che salta agli angoli più suggestivi, ricostruendo la storia delle famiglie più potenti della città. Abbiamo tra i vari personaggi illustri di Bari Sepolti, Tommaso Fiore, abbiamo la Cappella Scianatico, abbiamo Petroni, Diomede Fresa, abbiamo le personalità più illustre che hanno lavorato a Bari. La seconda tappa è aderire al network europeo nato a Bologna due anni fa per riconoscere i musei monumentali cittadini come beni di interesse storico e artistico. Il progetto prevede una visita guidata mensile, la possibilità di inserire anche la collaborazione con Scolaresche, l'Istituto d'Arte, l'Accademia delle Belle Arti, al fine di valutare meglio quelli che sono i monumenti all'interno dell'area cimiteriale, ma soprattutto far conoscere a tutti i cittadini baresi qual è il patrimonio artistico, architettonico e storico che abbiamo nell'area.